E' sempre più imminente la fatturazione elettronica che qualche preoccupazione alle aziende ferraresi italiane sta creando. Proseguono intanto gli appuntamenti organizzati sul territorio dalla CNA di Ferrara. Gli incontri di questa settimana si terranno in città a Cento e a Codigoro. Gli imprenditori coscienti dell'importanza di questo passaggio epocale stanno seguendo con grande attenzione le serate di CNA tanto che a Cento e Codigoro è stato necessario per il gran numero di adesioni modificare la sede degli incontri e spostarla in sale più capienti. Il calendario risulta quindi così è aggiornato a Ferrara mercoledì 21 novembre alle 17.30 nella sede provinciale di CNA in via Caldirolo. A Cento invece sarà giovedì 22 novembre alle 17.30 sempre nella sala Zarri di Palazzo del Governatore. A Codigoro venerdì 23 novembre alle 17.30 l'appuntamento con la fatturazione elettronica e nella sala Riode Finessi del Comune in piazza Matteotti. Parliamo ancora di un caso che ha visto Ferrara protagonista e quello degli F-Gas o gas fluorurati che si trovano nei frigoriferi e nei condizionatori venduti in internet a chiunque e invece secondo CNA dovrebbero essere venduti solo a tecnici abilitati e certificati perché sono pericolosi per l'ambiente. CNA aveva lanciato l'allarme e aveva portato avanti una battaglia arrivata al successo dell'iniziativa dell'associazione contro Amazon. Nasce da qui il ricorso che la CNA nazionale ha intentato con successo contro il colosso delle vendite online. I venditori di F-Gas non possono vendere a chiunque questi gas ma devono verificare che i soggetti che lo comprano siano patentati e abbiano anche l'impresa certificata. Amazon non rispettava queste regole perché non faceva la verifica se il soggetto che acquistava questi gas aveva le abilitazioni e patentini e certificazioni necessarie. CNA cosa ha fatto? Ha sollecitato un numero campione di imprese che sono circa una ventina per poter fare un ricorso verso Amazon per far sì di avere ragione e anche essere come esempio perché questi gas seguono il percorso corretto. Amazon in questi giorni ha risposto, ha cercato e ha voluto a tutti i costi transare, la transazione è andata a buon fine quindi senza arrivare a giudizio e Amazon ha fatto anche qualcosa di più, ha proprio tolto dalla vendita questi tipi di gas. La salute viene prima di tutto e non è solo un modo di dire ma anche un'occasione per mettersi al centro. Sono aperti fino a 15 dicembre infatti i termini per aderire a Sanarti la Sanità Integrativa dell'Artigianato, fondo di assistenza sanitaria integrativa del mondo dell'artigianato. Nato per tutelare i lavoratori, nel 2015 è stato aperto anche agli imprenditori che possono aderire su base volontaria e quindi è un'occasione offerta anche agli imprenditori appunto per tutelare meglio la propria salute e quella dei propri familiari. Per informazioni, iscrizioni e ulteriori indicazioni oltre che approfondimenti e per conoscere nel dettaglio i servizi offerti dal fondo ci si può rivolgere a Ughetta Ciatti della CNA di Ferrara. Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2018 di It to Meet, iniziativa promossa da CNA Giovani Imprenditori che si svolgerà mercoledì 12 dicembre nel Palazzo Ex Borsa in corso Ercole Primo d'Este a Ferrara. Come noto, la serata ruoterà attorno ad una simpatica cena conviviale nella quale i commessali avranno l'opportunità di estendere la propria rete di conoscenze. L'iniziativa è aperta a tutti gli imprenditori CNA interessati. È prevista una quota di partecipazione e le iscrizioni però vanno presentate entro il prossimo 4 dicembre. Per maggiori informazioni basta rivolgersi a Silvia Merli nella sede di CNA Ferrara. Ciao! 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 Ciao!